Ormai poche cose mi sconvolgono durante il telegiornale, ma oggi ci sono veramente rimasto di cacca. Vedo Presidente Mattarella che sta commemorando nell'anniversario dell'attentato la morte di Paolo Borsellino. Paolo Borsellino perché non lo ricordasse era uno dei giudici più incalzanti nella lotta alla mafia. E' stato eliminato due mesi dopo il suo sodale Giovanni Falcone. Bene, in seconda fila mentre parlava il Presidente della Repubblica c'era la seconda carica della Repubblica che è il Presidente del Senato che al secolo si chiama Antonio Grasso se non mi sbaglio. Grasso sono sicuro, Antonio non lo so. Questo signore che è messo lì dal buon Partito Democratico, tanto per cambiare il Partito Democratico, c'ha anche questo zampino. Era lì che se la rideva della bella con un altro signore vicino che sinceramente non ho riconosciuto. Mentre si commemoravano questi due personaggi. Ora voglio dire, brutto stronzo, sei lì a mangiarti i nostri soldi. Fai almeno la faccia di circostanza, visto che hai fatto sta cagata però. La cosa più bella che puoi fare è tornare a Roma, dare le dimissioni e toglierti dei coglioni. Perché di gente come te in Italia ne abbiamo piene le palle. Non ho capito perché lo Stato deve impegnare 20 poliziotti al giorno per difendere un'emerita merda come te. Che ti venga un cancro a te, a tutta la tua famiglia e a tutto il Partito Democratico. Valdai.